che gli inglesi si possono considerare praticamente qualificati. La partita non era cominciata molto bene per l'Inghilterra, che vedete messa seriamente in pericolo da un attacco dei danesi che sono in maglia rossa. Poi ha cominciato uno show Keegan, che qui si vede annullare un gol giustamente per posizione di fuorigioco dall'arbitro portoghese Diaz Correia, ma Keegan ben presto si è rifatto e al diciottesimo è riuscito a realizzare il gol decisivo. L'azione è bella, in linea, come vedete, e chiama in azione anche un difensore, Renil, che si è portato in avanti, la palla tra finte volontari e involontari e giunge a Keegan, che in diagonale di sinistro batte il portiere danese Jensen. Poi ancora occasioni per la squadra inglese che ha premuto e ha tenuto sotto controllo la partita in maniera abbastanza decisa e continua. La squadra danese era rinforzata da tutti quei giocatori che giocano in altri campionati europei, come ad esempio i due Arnesen e Lerby centrocampisti dell'Ajax, come Simonsen, passato quest'anno in Spagna dopo aver giocato in Germania. E ancora come Jensen, anche lui giocatore adesso di una squadra spagnola, vale a dire, del Real. 1-0 comunque soltanto il risultato, che forse avrebbe potuto essere più largo, anche se vediamo che a tratti i danesi hanno tentato in qualche modo di ristabilire la parità. Qui invece siamo ancora in fase d'attacco dell'Inghilterra, siamo ormai nel secondo tempo con le avanzate dei tersini, con i difensori che cercano il cross e poi Keegan che cerca di finalizzare l'azione, questa volta sfortunato il suo passaggio al centro per Barnes è intercettato. Con un attacco privo di un vero e proprio sfondatore, c'è stata la rinuncia all'Hatchford, il cannoniere inglese, l'Inghilterra è comunque riuscita a mettere in mostra un buon movimento. In difesa tutto bene, con Clemens, vedete, impegnato qui di testa in una bella parata. In pratica l'Inghilterra ha veramente tutte le possibilità di qualificarsi in un girone che non presentava soverche difficoltà, se non proprio quella offerta dalla Danimarca, che vedete però è stata sottoposta a un vero e proprio pressing, piuttosto continuo. Grazie!